non sapete cosa vi dovete mangiare oggi? è facile vestigire le carni come sono saporita mi mangiasse pure molto! quando andate dal chianchiere fatevi dare le felle di cane abbastanza rosse mettetele su una pellicola e imbuttonate con due felle di specchio anche tre una frangata di rucola a cucchiacchielli qualche scorza di parmigiano a piezzi rossi e due o tre ma pure quattro o cinque felle di provola sicuramente tagliate fino a fino a questo punto potete arravugiarlo aiutandovi con la pellicola la stringete forte forte così quando le tagliate a non si arrapano ovviamente ne ho fatte tre ho messo in fila indiana tutta la pellicola non la rapite ancora lo ha pezzato con uno spiettino no quello corto quello lungo lungo così tenete il canzo di infezzarlo tutti e tre quando vi sentite soddisfatti e avete sfogato pure in pochi i nervi mettete il cortello e tagliate e guardatela che spettacolo come mi piace quando viene così perché si sa anche l'occhio vuole la sua parte all'intrasatto bello e buono ci togliete la pellicola perché quello vi rimane sullo stomaco e io le ho cotte così mettetele in un piatto le insuorate di farina le scutuliate belle belle e poi semplicemente le friete in odio extra veg di olivia mi raccomando le vutate e le girate fin quando non si arroscano e poi le sfumate con il vino bianco ma voi se non volete insevare potete fare anche arrostute che sono troppo saporite e come sembra buon appetito